E ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video, siamo tornati oggi sulla serie di Slendrina Siamo sul primo episodio Slendrina The Cellar Un episodio a cui sono particolarmente affezionato e che ho portato sul canale circa due anni fa Quindi oggi andremo a rifarci questo gioco, il primo capitolo Però lo giocheremo in modalità differente Intanto andiamo comunque a giocare il primo Cellar E lo giocheremo in modalità hard signori Perché mettiamo un po' di pepe nel gioco E siccome non sono neanche contento, sono masochista ragazzoli Mi alzo il volume al 100% Così i miei timpani, le mie orecchie se ne vanno a benedire Avrò tanti di quegli infarti Ragazzoli, voi riederete e sarete contenti Allora, ho la sensibilità veramente qui Attenzione, mettiamola un po' a paltina Vediamo un po' Ciao Oddio 10 secondi di gameplay Ok, già e sono esplosi gli orecchi Bene, partiamo bene questo gameplay Direi che siamo pronti Ok, allora Questa è l'uscita, vi ricordo, dove dobbiamo trovare 8 libri E poi andarcene via Non ho paura di questo gioco Non mi fa paura più che altro Slendera Ma questo primo episodio lo conosco abbastanza bene È che il volume così alto nelle orecchi Oddio, distrugge E poi non me l'aspettavo si all'inizio Ha neanche preso un primo libro Oh Boia Oh Ma Ui, mi sarà glitchato qualcosa che era successo Ora non so se Ehi, ue, ue, ue Vedo, non vedo Stai lì capolino dalla porta Eh Mi dispiace, zio, ho visto E quindi Non mi farai paura Ci sarà un libro però qua dentro Oh Vedi, questo primo episodio non ti consente neanche di richiudere le porte Quindi Se trovi una porta aperta Sai già che ci sei stato Quindi buono E poi alla fine fine C'è lei, il suo spirito Quindi Ehm Non c'è bisogno Lei non è che ti rincorre Lei spawna davanti a te Quindi Ti apre il No, cosiddetto Fondo schiena E E via È così che funziona questo primo capitolo ragazzi È così Non è che ti sta a rincorre l'ansia Non è che te la mette Perché ogni volta che tu ti giri Sai che potrebbe essere Dietro di te Tipo adesso Vicolo c'è Comodità hard Ovviamente No, non c'è Strano Allora Abbiamo trovato un libro Per il momento Dobbiamo andare avanti Questo corridore lungo A me non piace Assolutamente Proprio per nulla Però c'è una chiave Ragazzi Iscrivetevi subito nei commenti Adesso Se sta dietro di me 3 2 1 E ci giriamo Non c'è Ok Slendrina Ok Slendrina Quindi Dov'è che sei? Dove Dove vado adesso? Perché mi sono già perso Nel primo gioco Non c'è una mappa Però questa Mappa di questo posto Più o meno Me la ricordo Anche perché l'ho rifatta Anche su Sul vecchio episodio di minecraft Episodio speciale Di Halloween Quindi un po' Mi ricordo A grandi linee Anche la mappa Un po' Com'è Quindi ormai Sto tornando Sulla wall principale Ok Quindi andiamo qua Dove ci sono soltanto 4 porte E stop Vediamo un po' Abbiamo usato la prima chiave Vediamo se qua all'interno C'è un libro Non c'è niente Slendrina non appare Ci sta dando Campo libero Per il momento Sono anche Contento di ciò Non è che mi lamento Assolutamente No C'erano soltanto Due porte Non c'è dietro Grande Slendrina Grande così Ci sta dando Veramente del tempo Forse siamo simpatici Speriamo Allora Non abbiamo più chiavi Questa porta è aperta C'è un libro Siamo a 2 su 8 Ragazzi Buono così C'è un altro a volte Perché sai Potrebbe mettere Però è Parsa davanti Parsa davanti Vi ricordo Che comunque qui Slendrina Ci uccide soltanto Se la guardiamo Per troppo tempo Quindi io devo Avere anche Riflessi pronti Per voltarmi Subito a 180 gradi Prima che ci Ci mangi Insomma Qualcosa Che ci faccia Un drenaggio Alla nostra Spina dorsale Ecco insomma Allora Vediamo un po' Dov'è che siamo Altro libro 3 su 8 5 al termine Stiamo volando Signore Stiamo andando Veramente Forte Dai che Slendrina Non ci fa paura Dai che Slendrina E' successo qualcosa Di poco bello Non so Sento un rumore Uè 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 Vedi Mi sto già abituando Agli infartini Mi sto già abituando Vi ricordo Il volume E' al 100% Quindi I miei orecchi Ormai Sono andati Dopo il primo spavento Non sento Assolutamente più niente Mi sono già Autotemprato In questo gameplay Praticamente Porta bloccata Abbiamo bisogno Di un'altra chiave Quindi dobbiamo cercare Altra chiave Ricordiamoci Ammonque qua Che c'è una porta Chiusa Ok Ora mi sono perso Seriamente Però Aspetta Questa è una porta Bloccata Pure questa Io non mi ricordo Dove sono arrivato No di quando ci sono Uncora stato Ok Porta Aperta Io l'odio Slendrina Però Il mio odio Per lei E' a livelli Veramente esagerati Però vabbè E' Qui è successo qualcosa Di brutto Suppongo Chi è che ci ha ucciso La Qualcuno Ha fatto una fine Poco bella Va dentro direi La porta E' anche chiusa Quindi Continuiamo Andiamo avanti Qui Allora Hanno aggiornato Anche questa cosa Le prime volte Non aveva la collisione Questo essere In mondo Di slendrina Ci hanno cascati Poco male Boom Per terra No Devo smettere Di stare fermo A fare il grullo In mezzo al corridoio E' che si lamenta Così Sarà il morto Prima che c'era qua Potrebbe essere Che ci sia qualcuno Là dentro Non lo so Perché potrebbe essere Davvero Che hanno aggiornato Magari il gioco Dopo tutto questo tempo Libro E qualcosa di diverso Magari ci potrebbe essere Tipo Questa porta sfondata No Si c'era Questa porta sfondata C'era Potrebbe nascondere Qualcosa all'interno No Non c'è niente Chiave Grande Chiave 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 Bene 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 Ricordiamoci Che c'erano Due porte chiuse Però continuiamo Ad andare Perché comunque Le porte chiuse Cioè le chiavi Sono Tante quante Le porte chiuse Quindi dovremmo Sicuramente Trovarne anche Delle altre Qui dove è che andiamo Qui si va nel Si infatti Mi ricordavo In questa specie Di magazzino Libro Qui di solito Ce ne stanno due Di libri Di solito Uno sta sulle scaffali No è un secchio Oppure qua dentro Vediamo un po' Libro Sei su otto Altri secchi Non c'è niente A volte su scaffali Però ci sta la chiave Quindi controlliamo comunque Vedi Vedi la chiave Bene Bene Oh ragazzi Stiamo volando Questo gameplay Ragazzi Questo remake Di slendrina Chiamiamolo così Lo stiamo veramente Andiamo via Andiamo via Per favore Andiamo via Di qui Allora Due libri Al termine E due chiavi Due chiavi Di cui dobbiamo Aprire due porte Quindi direi Che ci siamo Torniamo indietro Fino a quelle due porte Chiuse Tra cui Di cui Anzi Una era proprio Da queste parti Con il sangue Eccola qua Potrebbero aver aggiunto Qualcosa all'interno Questa stanza No Dov'era Non c'era Non c'è neanche il libro Stanza completamente troll Mi ha fatto Completamente Buttare Al secchio Una chiave Grazie Slendrina Grazie Nel senso Nascondi Del sangue Poi Una stanza Completamente Vuota Senza neanche A me non morto Ci potevi mettere Una testa Una testa mozzata La porta chiusa Era questa E qui C'è un'altra chiave E E basta Non vedo altri libri Qui però si raggiunge Un'altra Un'altra porta No No Ragazzi Non possiamo Ne Penso che Non riuscirò più A sentire Niente Dopo questo gameplay Comunque Penso che Sarà proprio così Comunque È passata È venuta di qua E niente È una slenderina Selvatica Di passaggio Non ci ha lasciato niente Però potrebbe esserci Un libro qua dentro E infatti Sette Su otto Ci rimane l'ultimo libro E indovinate un po' Dobbiamo tornare A quella porta Chiusa all'inizio Allora 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 devo un attimo Fare mente locale Ricordami un po' Com'è la mappa Dov'è che andare Perché non me lo ricordo Allora Qui dovrebbe esserci Qui c'è il sangue Sì No Allora devo andare D'altra parte Io Ragazzi In editing Sicuramente Metterò il volume Normale Altrimenti Morirete voi Anche di infarto Tutti questi colpi Agli orecchi Al cuore Per tutto Però Perché vi voglio bene Anche use Stanza Completamente vuota C'è un'altra chiave Cioè io sto Suttanto Cioè potevo andare Direttamente a quella porta Là no Però siccome Mi voglio male Voglio continuare il gameplay Quindi sto aprendo Tutte le porte inutili Per trovare altre chiavi Per andare poi Ad aprire quella porta Che poteva andarci Tranquillamente prima E poi mi sono anche perso Mi sono perso In mezzo al cellar Ragazzi Vuoi iscrivetevi Un po' sotto Nei commenti Se volete anche I remake Chiamiamoli così Anche del Cellar 2 E del cellar 3 Che abbiamo portato Già sul canale Abbiamo portato Quindi tutti quanti Gameplay di Slendrina Qui su questo canale Però Magari potrebbero Essere stati aggiornati Avevo visto Un braccino Spuntare dalla porta Però E niente Ci ha fatto Un colpo uguale Quindi Vabbè Iscrivetevi sotto Nei commenti Lasciando anche Like Se volete Anche gli altri Due episodi Se li rifacciamo Se volete Li rifacciamo Insieme Allora Devemmo esserci Perché qui C'è l'uscita Quindi la porta Chiusa Se non sbaglio Stava qua No Non stava qua Perché l'ho già aperto Quindi niente Ho detto una cavolata Ci siamo persi La porta Chiusa Stava da queste Parti Allora Dopo il corridoio Lungo O qua Non me lo ricordo Proviamo per di qua Vediamo un po' No Di qua Stava per di qua Se non vado Errato Eh No qui Allora Uè no Uè 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 Ma se mi muovo Tipo alla Moonwalk Di Michael Jackson Mi prende Mi vede Se mi muovo All'indietro In questo modo Faccio prendere L'ultimo libro Sì ce ne andiamo via Non ti rompiamo Più le balle Tanto se poi Vendrà a finire Poi Ci rincontreremo Nella scuola Nella casa Nel Zylum E poi Tutto quanto E poi alla fine Ci troveremo Prigionieri Della NONNA In casa Della nonna Lì Che ci darà Le mazzate Trammocebava Era questa La porta chiusa Era questa La porta chiusa Allora Prendi il libro E No No Vattene via Abbiamo il libro Abbiamo il libro Andiamo via Andiamo via Well done Now run to exit door Io Io fossi questo tizio Comunque Correvo Ma E come se Correvo Altro in questo modo Corzetta No 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 Correvo Correvo Allora Dovrebbe essere Di qua Vero la porta Ok Ci siamo Ragazzi Stiamo Stiamo finendo Il primo episodio Slendrina 3 2 1 E si va E' stato Addirittura Easy Facile Anche modalità Hard Signori Ci giocheremo Anche gli altri Cellar Vediamo un po' Quale Aspetta Ora Abbasso volume Tanto non ha più senso Giocheremo anche Gli altri Se volete Cellar 2 E Cellar 3 Che sono anche loro Molto inquietanti E poi se volete Ci sposteremo Anche sugli altri giochi Riporchereremo Tutta quanta La storia Slendrina Fino ad adesso Dove Dovremo combattere Ancora Con Granny Perché so che lo volete Me lo state dicendo In tantissime Più volte Un nuovo gameplay Di Granny Dove magari Andremo O a buggarla Anche se ultimamente Ho provato Anche da solo Provare a buggarla Non funziona Forse hanno Pacciato questo bug Forse Non lo so Però magari Ce ne potrebbero essere Anche degli altri E magari scopriremo Anche insieme Ad ogni modo ragazzi Concludo qua Questo video Come al solo Se vi è piaciuto Vi lasciate Tanti Tanti like Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Di Slendrina E ciao a tutti ragazzi